Con il video di oggi voglio rispondere a due domande che mi vengono fatte spessissimo. Quale argilla devo usare per cominciare a fare ceramica e quali sono le differenze fra le argille? Alla prima domanda direi dipende, dipende un poco da quello che dobbiamo fare. Alla seconda quante argille esistono? Non esistono tantissimi tipi, ma in questo video mi voglio concentrare su quattro tipi di argille per bassa temperatura. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video sulla ceramica. Dopo che avrò elencato le caratteristiche di ciascuna argilla, alla fine del video faremo anche un test di smalto con cristallina su due di queste. Quindi rimanete con me fino alla fine. Allora, iniziamo con questa che è una terraglia bianca della colorobbia. Questa argilla mi piace molto perché è plastica, è molto plastica, sia nella modellazione manuale ma anche al tornio. La cosa bella è che una volta asciugata, una volta cotta, diventa molto leggera, quindi io la uso per oggetti piccoli o anche per la creazione di gioielli come possono essere pendenti o orecchini e sono molto leggeri quindi non pesano più di tanto. Questa argilla cuoce di un bel bianco, diventa completamente bianca e quindi è ideale per utilizzarla magari per le decorazioni a ingobbio allo stato crudo oppure per usare i colori sotto cristallina o sopra smalti quando vogliamo fare la seconda cottura a smalto. Anche con le cristalline abbiamo degli effetti fantastici proprio per il fondo bianco di questa argilla. Uno svantaggio, diciamo, è il prezzo, è lievemente più costoso delle altre. La seconda argilla di cui vi voglio parlare è un'argilla bianca semirefrattaria per Raku della Sila Argille. È un'argilla semirefrattaria quindi all'interno della chamotte, ovvero dell'argilla cotta e triturata. Quali sono le caratteristiche che ci dà l'aggiunta di chamotte a un impasto? Sicuramente è un impasto strutturalmente più solido, quindi possiamo costruire anche oggetti più grandi sia a livello manuale sia al tornio, ma soprattutto è un'argilla da Raku e quindi è estremamente resistente allo shock termico. Ha anche un buon bianco come fondo, quindi va bene anche per le decorazioni di cui vi parliamo prima. Non cuoce dello stesso bianco di questa della Colorobbia, ma giusto lievemente un po' meno. L'unica, diciamo, fra virgolette, pecca di questa argilla è che ha una chamotte abbastanza importante, quindi al tornio diventa lievemente abrasiva. Possiamo usare, per esempio, dei guanti spessi mentre la usiamo al tornio. Questa terza argilla, invece, è la classicona, il classico impasto grigio della Colorobbia che cuoce color terracotta. Questa argilla è fantastica per usarla in qualsiasi modo, sia al tornio sia a modellazione manuale. Chiaramente non può essere utilizzata per il Raku, non essendo semirefrattaria, ma possiamo utilizzarla per tutti gli altri scopi. Come dicevo, in cottura diventa rosso, rosa, arancione, il color terracotta dipende un po' dalla temperatura alla quale facciamo il biscotto. È quella che utilizzo maggiormente, sia perché è lavorabile molto facilmente al tornio, e sia perché comunque è utilizzabile con qualsiasi tipo di smalto, anche le cristalline, anche se, diciamo, tutte le decorazioni e le cristalline tendono a scurire di tonalità, appunto, per il fondo terracotta. La cosa bella di questa argilla è che è super economica. La quarta argilla da bassa temperatura di cui voglio parlare è questa qui, che è la pirofila della Colorobbia. Pirofila, appunto, perché si utilizza principalmente, appunto, per tutto il pentolame che può andare a contatto con la fiamma, sia diretta, sia indiretta. Questa argilla pirofila cuoce di un mattone terracotta molto simile a quella grigia. Io la utilizzo sia per la modellazione manuale, sia al tornio. Non presenta particolari ruvidità al tornio, quindi non ci sono problemi di abrasioni alle mani. Io, appunto, la utilizzo per creare piccole terrine che possono andare in forno, sulla fiamma, pentole, taijin, e tutto, appunto, quello che serve per la cucina, diciamo, ceramica da cucina. La cosa bella di questa argilla pirofila è che la utilizzo al 50%, insieme a quella raku della silla argilla, per creare un impasto raku rosso, che resiste benissimo, anche questo, allo shock termico. Tutte queste quattro argille possono essere mischiate insieme per creare nuovi impasti. Non è detto, però, che mantengano le stesse caratteristiche dell'argilla originale, quindi bisogna fare un po' di prove e vedere i risultati. Allora, adesso che vi ho parlato un poco di queste quattro argille, andiamo a fare una prova. Ho cotto a biscotto due ciotoline, una in argilla grigia della Colorobbia e l'altra in argilla semirefrattaria della silla argilla, quella per raku. Le ho ingobbiate con lo stesso motivo e gli stessi colori e le ho cotte. Quindi adesso andremo a immergere nella cristallina, a cuocere nel fornetto magico e vedere i risultati. Vediamo se c'è qualche differenza. Allora, rieccoci qui con i risultati della cottura. Vi devo avvertire che ho fatto due cazzate, perché questo è YouTube verità. Su questa ciotolina in argilla rossa non ho controllato, uno, che il pezzo fosse pulito. Infatti la cristallina è venuta un po' a buccia d'arancia. E due, ho usato una zampa di gallina un po' sporca per impilarli uno sull'altro e quindi sono rimasti dei crateri enormi. Però comunque riusciremo a notare le differenze fra i due tipi di argilla. Questa più scura e questa più chiara. Vediamole. Allora, ecco qui che possiamo vedere le differenze. A parte i difetti della cristallina qui a buccia d'arancia nell'oggetto in argilla rossa, vediamo che comunque il decoro è più chiaro, più vivo, risplende di più nel pezzo con lo sfondo bianco, quindi in argilla bianca. E i toni risultano lievemente più scuri nell'oggetto con il fondo più scuro. Quindi mi sentirei di dire alla fine che non c'è un'argilla migliore di un'altra, ma dipende tutto da quello che vogliamo fare, dall'oggetto che vogliamo realizzare e dal tipo di decorazione che vogliamo effettuare. E quindi alla fine dipende un po' dai nostri gusti e dalle nostre preferenze. Come al solito, se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdervene nessuno dei prossimi. Ci vediamo prestissimo, buona ceramica a tutti. Ciao!